La cronaca delle ultime ore sta tenendo alta l'attenzione sulle morti bianche. Ieri la tragedia a Puglianello, dove ha perso la vita un 42enne del napoletano impiegato come autotrasportatore in una ditta della Basilicata. L'uomo stava sistemando delle lamiere sul rimorchio del camion parcheggiato nel piazzale dell'azienda della zona industriale di Puglianello quando qualcosa è andato storto. Il povero operaio ha battuto violentemente la testa, probabilmente prima contro il giunto della cabina del camion per poi finire a terra tra le lamiere. Sulla vicenda sta indagando la magistratura. Intanto il prefetto di Benevento Torlontano ricorda che è stato già istituito un tavolo per la sicurezza sui luoghi di lavoro e auspica una implementazione degli ispettori del lavoro su tutto il territorio. Riguardo all'incidente di ieri vi posso dire che come sapete abbiamo già messo in atto un tavolo in prefettura per analizzare lo stato dell'arte riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi c'è uno studio in merito. Riguardo l'incidente in senso stretto stanno verificando se si è trattato di una caduta accidentale o di una cosiddetta disgrazia nel senso c'è stato uno svincolo del carico di tubi verso il muletto cosiddetto cielo e la macchina operatrice che la persona stava utilizzando per caricare il mezzo. Indubbiamente, come già abbiamo evidenziato, sarebbe opportuno e necessario una implementazione degli ispettori del lavoro. Noi come prefettura abbiamo già scritto in questo senso e speriamo che ci sia la possibilità di implementare l'organico dell'ispettorato del lavoro.